Da quella regione che voleva diventare regione di oltre un milione di abitanti ci ritroviamo ad una regione che soffre un critico calo demografico. È giusto, Nobile Tercio. Siamo di fronte a un trend demografico che non può che preoccupare. Nell'ultimo anno l'Umbria ha perso 4.213 residenti, passando da 558.812 abitanti a 854.599. E c'è pertanto un calo dell'Umbria dello 0,3% in linea con le regioni del centro, il nord cala di meno, cala dello 0,1% e c'è invece un calo evidente al sud delle regioni meridionali dello 0,6%. Ovviamente questo è anche il frutto particolare al sud della emigrazione, il nord cala di meno perché acquisisce cittadini che provengono dal sud e dal centro. Comunque l'Umbria dal 2019 ha perso 15.000 abitanti, che sono 2.500 ed oltre nella provincia di Perugia in questo anno e nella provincia di Terni 1.652. Le nostre città quindi sono meno popolose. Perugia perde quasi 600 residenti, presa attezza 591 e passa da 162.000 erotti a 161.700. A Terni si perdono 723 residenti e la città passa da 107.165 residenti a 106.442. Pertanto un calo delle due città principali e di tutte le altre 8 città sopra i 15.000 abitanti. L'unica città che invece aumenta è Corciano con più 143 residenti e passa da 21.429 a 21.572. Questo dato è anche segnato dal record negativo delle nascite. Noi abbiamo un saldo naturale anagrafico che segna meno 6.776 residenti. Sono 11.696 i deceduti e i nati sono appena 4.920. Certo, anche in Italia c'è un dato importante. Ci sono 393.000 nascite e 713.000 decessi. In Umbria le nascite pertanto sono state 4.920. In Italia nel 21 registriamo un meno 1.9% ma in Umbria un meno 6%. Con un saldo migratorio di più in Umbria 3.743. Ovviamente il saldo migratorio è dato anche dall'affrusso dei profughi provenienti dall'Ucraina. Il dato demografico che non è di questi due anni ma si sviluppa anche da prima ha degli effetti lì molto negativi. Gli effetti negativi innanzitutto possiamo dire rispetto alla quantità dell'offerta di lavoro. Si corre il rischio che la domanda di lavoro risulti insoddisfatta. L'altra questione è la composizione anagrafica degli occupati che sono con ripercussioni sulla produttività, sull'assistenza e sulla previdenza pesanti. Le cause dal mio punto di vista sono che il paese e l'Umbria continuano ad invecchiare perché c'è un dato, c'è un dato della precarizzazione. Prima è la precarizzazione del lavoro, poi la precarizzazione della vita, una difficoltà ad immaginarsi un futuro e questo determina un calo demografico. In più, se noi discutiamo sempre di immigrazione, c'è un evidente dato forte dell'immigrazione. Molti nostri ragazzi, molti nostri giovani, moltissimi assolutamente qualificati, decidono di giocare le loro carte all'estero, in altre situazioni, in altri paesi, a iniziare dal nord Europa e dall'America del Nord. Ecco, questo è un dato che direi che è preoccupante per l'Italia, ma è preoccupante anche per l'Umbria. E questo dato non si discute, sembra che le istituzioni non assumano questo declino anche dei residenti e pertanto non vi pongono rimedio e neppure, a me sembra, manifestano la volontà di porvi rimedio.